Musica Questo mugshot non è certo un timido Ok, ora sappiamo che è qui da qualche parte Ma come possiamo fare per trovarlo? Mesa City è una città molto grande Visto che è un bulldog Hai sensato che mi ha scelto di vivere all'interno del grande idrante In un certo qual modo sembra logico Bene, adesso ti serve solo un modo per accedere alla base dell'edificio Sono sicuro che troverò qualcosa Brava, brava! Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Mauri è in posizione e può andare a prendere la chiave Ok, e allora che faccio? Forniscigli del fuoco di copertura con la postazione da salto Usa la levetta analogica sinistra per mirare e premi il tasto quadrato per fare fuoco Farò del mio meglio Sto entrando, Sly! Ottimo tiro! Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Mi sto avvicinando Bingo! Ce l'ho fatta! Grazie a tutti i nostri spettatori